Salve, buongiorno, benvenuti nel vostro nuovo video e in questo nuovo video, siamo sul MotoGP 15, episodio 10, siamo a Indienapoli, su una delle mie piste preferite. Le prove libri sono andate di merda, le qualifiche sono andate di merda, patto ultimo, scendiamo in pista e vediamo un po' con la era. Prima dentro, gasta il martello e via. Via, 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 a partire su questi giri, recuperiamo il più posizioni possibili, Indienapoli, al primo giro. Grazie a tutti. 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 13 minuti, un giro soltanto, due minuti, quattro minuti, il Grazie. 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 Grazie.